ciao ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dedicato agli effetti oggi torniamo nella categoria sfocatura e contrasto per vedere quello chiamato cc vector blur con la quale ottenere una sfocatura direzionale e anche se abbiamo già visto altri effetti dedicati alla sfocatura e altri dobbiamo ancora esplorare con questo terminiamo quelli con la sigla sissi davanti che altro non è che un prefisso che identifica quegli effetti creati da aziende di terze parti che li rendono poi disponibili e quindi compresi all'interno dei software di adobe detto ciò possiamo applicarlo direttamente al livello interessato dove ho questa illustrazione di un codrillo oppure aggiungiamo un livello di regolazione e mantenendolo selezionato andiamo su effetto nella categoria sfocatura e contrasto e clicchiamo su cc vector blur appena inserito sembrerà che nulla sia successo ma prima di iniziare a scoprire i suoi parametri voglio specificare il fatto che questo effetto non ha nulla a che vedere con i file vettoriali come quello che ho inserito nella composizione creato con illustrator dove se aumentiamo la sua scala possiamo ingrandirlo a dismisura senza perdere la qualità dell'immagine utilizzando il comando nella timeline per la rasterizzazione continua la sua particolarità sta nel fatto che questo effetto usa una mappa vettoriale per sfocare un livello in una direzione specifica in pratica sfrutta un vettore inteso come un calcolo matematico per determinare una direzione velocità tra due punti fissi ma tra poco lo capiamo meglio perché se una volta applicato andiamo a cambiare i valori di amount ovvero la quantità di sfocatura vedrete come in positivo o negativo tutta l'immagine viene sfocata verso l'interno o verso l'esterno e la trama che assume è diversa da una normale sfocatura perché avviene in base all'interruzione di colori dei pixel che l'effetto trova con un risultato davvero particolare ma che tra poco capiamo meglio quindi per sfruttare questo effetto attraverso un vettore dobbiamo spostarci nella sezione vector map dove possiamo associare un livello che sarà appunto la mappa vettoriale che nella pratica consiste in un gradiente in scala di grigi per determinare la porzione da sfocare che avviene attraverso due punti fissi ma vediamo come crearla aggiungiamo un tinta unita che rinominiamo mappa su cui gli applichiamo l'effetto scala sfumatura ora abbassiamo un po il punto del nero e alziamo quello del bianco se ora utilizziamo questo livello come mappa vettoriale immaginate che il punto nero sia quello rinominato a mentre il punto bianco quello b per cui la sfocatura avverrà nello spazio che si trova tra questi due punti e l'effetto non prenderà in considerazione il colore che si trova al di là di questi due riferimenti una volta creata possiamo spegnerla con l'occhiolino tornare sull'effetto e dal menu vector map impostare il nostro livello mappa nella modalità effetti e maschere perché su quel livello abbiamo l'effetto della scala sfumatura e se ora aumentiamo la quantità con la mount avremo la sfocatura solo tra i due punti dove in positivo avrà una direzione dal punto a al punto b quindi dal nero al bianco mentre il negativo dal punto b al punto a e quindi dal bianco al nero e notate come oltre a quei due punti che possiamo visualizzare se clicchiamo sul livello e rispettivo effetto non abbiamo nessuna distorsione se poi apriamo la paletta dei colori dell'effetto e cambiamo il passaggio del bianco a nero avremo in pratica lo stesso risultato che otterremo modificando i parametri della mount aumentando e diminuendo la quantità della sfocatura bene chiudiamo la palette perché ora se volessimo cambiare la posizione e distanza dei due punti ci basterà selezionare l'effetto prendere due punti e spostarli nello spazio e impostare così una dimensione e orientamento diverso subito sotto abbiamo la proprietà chiamata angle offset che andrà a ruotare la sfocatura all'interno del vettore e quindi solo tra i due punti a e b poi abbiamo ridge smoothness con la quale definire il passaggio sfumato tra il vettore e il resto dell'immagine a valore 0 avremo un bordo netto mentre se la aumentiamo andremo ad ammorbidire il passaggio tra i due dove con valore al 100% la andremo ad azzerare ma se calibrata attorno ai 6 vedremo come sarà possibile cambiando il valore di rotazione come la scea della sfocatura crei una sorta di profondità tridimensionale ripristiniamo l'angolo e anche lo smoothness e ora la modalità di sfocatura del vettore potrà essere cambiata attraverso il menu type dove per impostazione predefinita si trova su natural ma possiamo cambiarla in constant length quindi lunghezza costante dove userà una sfocatura dritta nelle due direzioni mentre se passiamo a perpendicular allora la mappa verrà sfocata perpendicolarmente senza tenere in considerazione il passaggio tra i due punti le due successive direction center e direction fading trasformano la proprietà ridge smoothness in una nuova chiamata revolution la prima direction center prende in considerazione il centro tra i due punti e sfoca tutta l'immagine in direzioni opposte che possiamo calibrare con la mount mentre revolution modifica la sfocatura all'interno del vettore e che modifica anche la sfocatura presente al resto dell'immagine mentre direction fading è abbastanza simile con la differenza che avremo una sfumatura per cui se imposto un revolution a 1,10 e gioco con la mount avremo il vettore che sfoca da una parte e il resto dell'immagine da un'altra lasciamo su natural e passiamo a property che attraverso il suo menu ci permette di impostare l'opzione con la quale la sfumatura avverrà all'interno del vettore e che per impostazione predefinita si trova su lightness e dove le ultime quattro in lista vanno benissimo per lavorare su una mappa in scala di grigi mentre i canali rgb non avendo effetto sul bianco e nero possono interagire con la sfocatura qualora utilizzassimo sulla mappa vettoriale due colori differenti lasciamo su lightness e arriviamo a map softness che dona una morbidezza nel passaggio tra la sfocatura e il resto dell'immagine un po' simile a ridge smoothness e queste erano tutte le proprietà dell'effetto dove potete sperimentare dei vettori in scala di grigi animati per ottenere particolari effetti ma vorrei farvi vedere anche come senza un vettore questo effetto può darci dei risultati davvero sorprendenti quindi per farvelo capire meglio passiamo a questa composizione dove abbiamo una ripresa del mare con onde che si infrangono sulla riva se mandiamo in riproduzione possiamo vedere una bella immagine definita ma se ora l'attivo l'effetto che ho precedentemente inserito con una mount a 80 allora il vector blur prenderà in considerazione l'intervallo dei colori e quindi l'interruzione dei pixel diversi collegandoli tra loro il risultato che ne consegue è una sorta di cristallizzazione di porzioni di colori simili tra loro che andranno a generare un effetto simile a un dipinto o un mosaico facciamo un altro esempio e ci portiamo su questa composizione dove ho uno sfondo azzurro un livello sulla quale ho inserito l'effetto disturbo frattale l'ho portato in progressivo dinamico attivato la casella inverti impostato un contrasto a 170 una luminosità meno 30 poi all'interno del gruppo di trasformazione impostato una scala attorno ai 2 e 30 una complessità a 10 infine ho animato l'evoluzione dove a tempo zero ho acceso l'orologio e a 10 secondi gli ho impostato 5 giri completi dopodiché ho fuso il tutto con il fondale azzurro tramite la timeline all'interno dei suoi metodi di fusione impostando la modalità aggiungi se ora mandiamo in riproduzione avremo questa distorsione animata dove i pixel di varie colorazioni e luminosità sono tutti mischiati tra di loro rilasciandoci questo risultato ma se ora attivo il cc vector blur che ho inserito precedentemente per questioni di rendering vedrete come andremo a uniformare quegli intervalli di colore dove otterremo più verosimilmente le riflessioni caustiche dell'acqua per cui attivando e disattivando l'effetto possiamo vedere come la sfocatura trasformi la nostra scena anche senza una mappa vettoriale generando una trama simile a un'illustrazione ora questo effetto può avere davvero tanti utilizzi perché solitamente utilizzato insieme ad altri effetti nell'esempio che vedremo ho scelto di usarlo in abbinamento a un sistema particellare per creare un effetto splatter quindi quello che faremo è andare a ricreare un effetto di sangue che schizza simile a quelli usati nel film di 300 ma direi di iniziare subito e ci portiamo su questa composizione dove inseriamo tinta unita su cui applichiamo l'effetto cc particle world entriamo nel gruppo del producer e azzeriamo i parametri a tutte le dimensioni adesso entriamo nel gruppo della fisica e impostiamo l'animazione nella modalità direction axis in modo da averlo lateralmente spostiamo il produttore con l'effetto selezionato e lo posizioniamo in alto a sinistra e ora per creare uno schizzo accendiamo l'orologio del birt rate a tempo 0 e impostiamo un valore di 10 poi ci spostiamo di un frame con pagina giù e qui impostiamo un valore di 0 e se mandiamo in riproduzione abbiamo questo schizzo o perlomeno questa simulazione molto simile a uno schizzo aumentiamo la velocità portandola a 2 e una resistenza a 0,2 ora entriamo nel gruppo particle e impostiamo la particella nella modalità faded sphere magari distribuiamo lo schizzo più orizzontalmente impostando un extra attorno ai 0,8 torniamo su particle e impostiamo un size variation al 100 per cento in modo da avere più particelle diverse l'una dall'altra ora non ci rimane che cambiare il colore con un rosso scuro su entrambe le palette quindi seleziono la prima trovo il rosso che più mi piace dopodiché con il campionatore della palette sotto vado a cliccare su quello appena scelto adesso miglioriamo tutto l'effetto andando a duplicare il livello con il control d e su quello più in basso modifichiamo la resistenza impostando un valore attorno ai 0,7 poi nel gruppo extra in basso andiamo a impostare una casualità al random seed attorno ai 1500 poi cambiamo un po la dimensione all'interno del gruppo particle impostando un valore di 0,2 sia a quelle della nascita che a quelle della morte aumentiamo di poco la velocità portandola a 2,5 e anche un po la dimensione del birth rate dove a tempo 0 gli diamo un valore attorno ai 17 ora facciamo un'altra copia del livello superiore dove andiamo a cambiare il birth rate a 5 all'interno della fisica cambiamo la velocità a 1,5 e portiamo una resistance a 0 adesso entriamo nel gruppo particle e impostiamo uno 0,3 sia alla nascita che alla morte e se ora trasciniamo la linea temporale avremo molte particelle con dimensioni e movimenti differenti a questo punto non ci resta che uniformare il tutto quindi aggiungiamo un livello di regolazione su cui andiamo ad applicare l'effetto CC vector blur impostiamo un amount attorno ai 150 e ora se trasciniamo la linea temporale possiamo vedere come questo schizzo si è ridotto e abbiamo anche una sfocatura che ancora non è il massimo ma non preoccupatevi perché adesso andiamo ad aumentare la sua dimensione andando inserire l'effetto riduzione semplice nel software in inglese simple choker che sappiamo va a levigare i bordi ma se lo portiamo in negativo li andrà ad aumentare per cui lo portiamo con un valore attorno a 1 1,3 se lo volete più spesso vi basterà portare il valore negativo per esempio a meno 2 2,5 adesso miglioriamo l'aspetto applicando una sfocatura di movimento quindi della timeline su tutti e tre i livelli del particle world attiviamo la casella del motion blur terminiamo aggiungendo un nuovo livello di regolazione su cui andiamo ad applicare un nuovo effetto chiamato effetto movimento pixel nel software in inglese pixel motion blur che andrà a randomizzare la sfocatura ogni singolo frame ma che vedremo nel dettaglio nelle prossime lezioni mandiamo in riproduzione e avremo creato uno schizzo di sangue molto cinematografico bene ragazzi questo era un esempio su come usare il cc vector blur ma il suo uso è davvero esteso nel mondo della motion graphics anche questo effetto di sangue in realtà potrebbe essere realizzato più semplicemente con il cc mr mercury ma direi che per questa lezione ci possiamo fermare qua e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao